Il governo non ha fatto nulla e lo dimostra quello che ha detto il padre di Ilaria Salis che è uscito da un incontro con il ministro degli esteri italiani e con il ministro Nordio perché voleva almeno portare Ilaria a una carcerazione domiciliare in Italia oppure in ambasciata quindi non per toglierla dal processo ma semplicemente per farla vivere in condizioni decenti visto che in carcere in Ungheria è stata umiliata e vive in condizioni pessime ma neanche questo è stato ottenuto e questo è assolutamente vergognoso il governo se ne sta fregando di questa ragazza, diciamoci la verità forse perché è in Ungheria dove governa Orban che è l'amico della Meloni Non si può tollerare il fatto che una persona abbia condizioni detentive come quella di Ilaria Salis questa è una violazione chiara dei diritti umani, c'è un problema anche di stato di diritto perché dobbiamo ricordare che non io ma la commissione nel report sullo stato di diritto ha detto che l'Ungheria non rispetta per quello che riguarda la giustizia l'indipendenza dei giudici e quindi rischiamo per lei un processo politico